Oggi è una giornata come le altre, ma è anche una giornata speciale. In Puglia abbiamo raggiunto i 2 milioni di dosi somministrate, come dire la metà della popolazione pugliese. Abbiamo somministrato più del 90% delle dosi che continuamente vengono consegnate alle nostre farmacie. Siamo pronti? Siamo contenti? Questa è la prima dose? Prima dose. È una settimana di intardo. Per la prima dose? Sì, sì, prima dose. C'è molto anticipato di una settimana, sette giorni. Vedo molta sicurezza da parte del medico, per cui mi trasmette a sua volta sicurezza, ma non le nascondo che un pathos c'è, quindi speriamo bene. 2 milioni significa che grazie a questi vaccini abbiamo in questo momento protetto in gran parte la popolazione più vulnerabile. Abbiamo superato il 90% di copertura vaccinale negli ultraottantenni. Siamo vicini a questa soglia anche nella fascia di età 70-79. Fra i 60 e i 69 anni abbiamo quasi vaccinato il 70% della popolazione che ricade in questo gruppo. Ha fatto il vaccino Johnson, sperando ovviamente che non ci siano effetti collaterali, però siamo molto fiduciosi. Quindi oggi la prima dose? Sì, sì. Allora è arrivato il turno, ma siamo contenti. Come ha visto stiamo riuscendo anche ad andare nelle classi più giovani. Ebbene, sì, meno male. Vedo che è galoppando. Stiamo galoppando. Più veloci così non possiamo andare. Purtroppo i vaccini che ci arrivano sono questi. Forza, andiamo avanti. Sempre così. Vuol dire che stiamo procedendo nella maniera più idonea possibile. Dovremo, speriamo al più presto, insomma, essere fuori da questo incubo. Chiunque oggi dal Gargano all'Euca si vaccini è il duemilionesimo vaccino somministrato in Puglia. Adesso, sono tranquillo.